Raggiunto alla schiena e al busto da alcuni colpi di fucile mentre tentava disperatamente di scappare. E' morto così un allevatore ventottenne di origini mattinatesi, Bartolomeo Lapomarda, giustiziato nella serata del 17 luglio in località San Martino Tagliata, al confine tra i comuni di Mattinata e Monte Sant'Angelo. A lanciare l'allarme nel tardo pomeriggio, non vedendolo rincasare, sono stati alcuni familiari del ventottenne. Giunti nell'azienda agricola dell'uomo in serata, i carabinieri hanno trovato il suo cadavere riverso a terra in mezzo ai campi. Nelle ore successive i militari, coordinati dalla procura di Foggia, hanno effettuato numerose perquisizioni e eseguito alcuni stub per verificare la presenza di polvere da sparo su mani, viso e indumenti e interrogato le persone vicine all'uomo. Con ogni probabilità nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia sul corpo della vittima. Al momento gli inquirenti non tralasciano alcuna pista investigativa sul momento dell'omicidio. Da quella incentrata sulla possibile vicinanza dell'uomo alla criminalità organizzata del posto a quella legata agli ambienti e ai conflitti agropastorali. L'uomo aveva dei precedenti penali. Nell'aprile del 2016 fu accusato di tentato omicidio ai danni di un 43enne che fu colpito con un'ascia e lasciato a terra sanguinante a mattinata in pieno centro storico.